Non tutti gli ombrelloni sono già issati ma gli stabilimenti balneari di Fano sono quasi pronti per la stagione estiva. Infatti da diverse settimane sono cominciati i lavori nelle spiagge e gli appassionati della tintarella hanno iniziato ad usufruire dei lettini. Tra le attività pronte ci sono i bar che offrono musica e aperitivi e alcuni campetti per le attività sportive. Saremo prossimi all'apertura, tendenzialmente il weekend del 22 di maggio e dopo dipende anche dal tempo perché le previsioni da qui al 22 di maggio non è che siano meravigliose. Se piove sempre i lavori non possono andare avanti perché tanto non è che si può lavorare con la pioggia. Oddio, si può anche lavorare con la pioggia ma non è il massimo. Non in tutti gli stabilimenti però sventola la bandiera blu, il riconoscimento assegnato dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale che premia la qualità delle acque di bagnazione ma anche il turismo sostenibile, l'attenta gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree naturalistiche. L'ufficio turismo infatti non ha inoltrato le domande per le spiagge del Lido e dell'Arzilla, limitrofe alla foce del torrente, e quindi non potranno freggiarsi del vessillo blu nonostante i valori ambientali siano rientrati nella norma. Anche l'anno scorso non c'eravamo la zona del Lido ma è una cosa, il fatto della bandiera blu, il discorso da fare è anche che due anni fa ci sono stati problemi con l'Arzilla per cui abbiamo avuto il divieto di bagnazione per un periodo seppur breve di cosa e abbiamo la fedina al penale sporca per cui anche se adesso teoricamente l'acqua è pulitissima perché pare che abbiamo fatto i lavori là all'Arzilla, per quattro anni noi non possiamo avere la bandiera blu per via del problema che abbiamo avuto due anni fa. Questo vi ha provocato danni o comunque la clientela e gli affizionati non mancano? Sinceramente questo non lo so dire, non lo posso dire, non posso sapere chi non è venuto appositamente perché non c'era la bandiera blu o cosa, gli affizionati ci sono sempre anche perché tanto un fanese vuoi che non vuoi la situazione, al di là di bandiera blu o meno la conosce, uno che viene dall'esterno, dal fuori sa che a Fanno c'è la bandiera blu, dopo magari non sa nemmeno che al Lido non c'è o alla Sassonia c'è, per cui è tutta relativa la cosa insomma, ecco tutto qua. La bandiera blu ormai è qualche anno che non ce l'abbiamo però non ci provoca più danni, più di tanto perché secondo me gli ultimi anni abbiamo lavorato molto con i turisti dal nord Europa, olandesi, tedeschi, belgi e va bene dai. Speriamo che arrivi solo la bella stagione e sole. Oltre alle belle giornate però, sia gli operatori balneari sia i residenti sperano che l'amministrazione comunale intervenga il prima possibile per la manutenzione del verde pubblico. C'è da dire che due giorni fa è stata rimossa la sporcizia che c'era qui sotto il ponticello che collega Lido e Arzilla, un punto in cui non c'erano solo rami secchi ma anche immondizia varia come cartacce, bottiglie di vetro e plastica. In quest'altro lato invece ci sarebbe molto da fare, hanno commentato le persone che hanno fermato la nostra troupe e che hanno definito l'area una vera savana con tanto di nutre. Oggi l'assessore Cristian Fanesi ci ha confermato che i fondi necessari sono già stati stanziati e che a breve verrà eseguito l'intervento. Fra qualche giorno inoltre inizierà lo sfalcio della vegetazione anche lungo le piste ciclabili Fano-Arzilla e Fano-Pesaro, un'operazione a costo zero grazie ad una collaborazione fra il Comune di Fano e il Consorzio di Bonifica e che permetterà di mettere in sicurezza il percorso molto utilizzato dai cittadini.